Dal Vangelo di Giovanni Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse Signore, tu lavi i piedi a me. Rispose Gesù Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro Tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù Se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro e voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Sorelle e fratelli carissimi, siamo arrivati al Giovedì Santo, l'inizio del Triduo Pasquale, la Messa della Cena del Signore. Perciò su questo tavolo, che vuole simboleggiare il tavolo sul quale Gesù ha celebrato l'ultima cena con i Suoi Apostoli, abbiamo messo il segno dell'Eucarestia e il segno della lavanda dei piedi, il segno del servizio. Quando Gesù ha detto fate questo in memoria di me, si riferiva certamente alla ripetizione nel rito dell'Eucarestia, ma anche ad acquisire la sua logica del mondo nuovo, la sua logica di uomo nuovo, farsi pane, farsi dono per gli altri, farsi servo per gli altri. Questo è il suo testamento, come vedremo commentando il Vangelo di Giovanni, che al contrario di tutti gli altri evangelisti, non ci racconta l'istituzione dell'Eucarestia a cui lui ha dedicato l'intero capitolo sesto, ma ci racconta appunto la lavanda dei piedi. Stiamo entrando in un momento importantissimo per Giovanni, pensate che Matteo, Marco, Luca dedicano solo pochi versetti per raccontarci l'ultima cena. Giovanni dedica all'ultima cena cinque capitoli del suo Vangelo, praticamente un quarto del Vangelo di San Giovanni, composto da 21 capitoli, è occupato dal racconto dell'ultima cena. Un racconto in cui Gesù fa un lungo discorso che possiamo chiamare, così come fanno gli studiosi, il discorso di addio di Gesù e che riprende il genere letterario dei discorsi di addio presenti in più pagine della Sacra Scrittura. Infatti nel Vecchio Testamento Giacobbe fa un discorso di addio ai suoi figli in Egitto dopo averli chiamati intorno a sé. Ad ognuno dice qualcosa, ad ognuno offre la sua benedizione, a tutti invita a essere fedeli al Signore che sempre si è ricordato di loro. La stessa cosa fa Mosè quando fa l'ultimo discorso al popolo degli ebrei, racconta ciò che Dio ha fatto per loro liberandoli dalla schiavitù dell'Egitto e proteggendoli lungo il percorso nel deserto e chiede loro di restare fedeli al progetto d'amore e di vita che Dio aveva rivelato loro attraverso di lui, attraverso Mosè appunto. La stessa cosa fa Giosuè, la stessa cosa fa il profeta Samuele, la stessa cosa nel Nuovo Testamento fa San Paolo quando fa un lungo discorso agli anziani di Efeso nel porto di Mileto, quando dice che non vedrà più il loro volto e ricorda loro di essere fedeli al Vangelo che lui aveva annunciato. Gesù, come questi grandissimi personaggi della scrittura, fa anche lui il suo discorso, ma prima di iniziare il suo discorso Gesù compie un gesto, un gesto eclatante, un gesto inaspettato, un gesto sorprendente, un gesto che cambia completamente le carte in tavola tanto che gli apostoli, a cominciare da Pietro, non lo comprendono, tanto che gli apostoli fanno fatica ad accoglierlo perché il gesto che fa Gesù insieme con tutte le parole e tutti gli altri gesti che lui aveva compiuto rivela definitivamente il volto di Dio come padre, come padre ricco di tenerezza, di misericordia, di amore e di perdono e il volto di Dio che non vuole farsi servire ma si mette lui stesso a servire. Gesù, il figlio di Dio, inginocchiandosi davanti ai piedi dei dodici apostoli ci sta dicendo come in un'altra pagina del Vangelo ci ha detto io non sono venuto per essere servito ma per servire e quello che io vi sto insegnando oggi fatelo anche voi gli uni gli altri lungo tutto il corso dei secoli. Quindi Gesù comincia con questo gesto e l'Evangelista Giovanni questo gesto lo ripercorre per così dire alla moviola molto lentamente facendoci gustare ogni particolare e facendoci imprimere nella mente e nel cuore tutti i particolari perché tutti i particolari sono importanti. Prima di tutto l'ora è giunta l'ora. Questo termine ora nel Vangelo di Giovanni lo avevamo già trovato lungo l'episodio delle nozze di Cana. Lì Gesù aveva detto a Maria Santissima che gli chiedeva di intervenire che ancora non era giunta la sua ora. Adesso la sua ora è giunta come Gesù stesso disse ad Andrea e a Filippo che portandogli la richiesta di alcuni greci che lo volevano incontrare e vedere dice è giunta l'ora in cui il figlio dell'uomo venga glorificato. Naturalmente quando noi sentiamo parlare di gloria immaginiamo i trionfi, immaginiamo gli applausi, immaginiamo il successo ma l'ora di Gesù non è questo. L'ora di Gesù è quando lui sarà innalzato sulla croce e da lì attirerà tutti a sé. L'ora di Gesù, la gloria di Gesù è il momento in cui in modo definitivo una volta per sempre egli ci mostrerà il livello a cui può aggiungere l'amore di un Dio che si è fatto uomo. Più in là di questo non può andare. Ecco perché l'Evangelista ci dice avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò sino alla fine. In questo verbo amare si può racchiudere tutto il senso della vita di Gesù, del servizio di Gesù e il verbo utilizzato è il verbo dell'amore assoluto, dell'amore totale, dell'amore incondizionato, dell'amore gratuito, quello che non chiede nulla in cambio. Questo verbo in greco agapao viene usato nei testi dei classici greci soltanto una dozzina di volte. Nel Nuovo Testamento, specialmente in San Giovanni, viene utilizzato 143 volte, proprio per dirci lo stile di Gesù, la portata dell'amore di Gesù. E quindi questo amore giunge alla fine, che non significa soltanto al termine temporale, ma al punto più alto dal punto di vista qualitativo, perché è un amore che arriva a donare la sua vita per coloro che ama. E durante la cena, non all'inizio, come un gesto rituale al quale gli ebrei erano abituati, Gesù si alza per compiere appunto il gesto di lavare i piedi. Noi sappiamo che gli ebrei, così come i popoli antichi, dai persiani ai greci ai romani, quando sedevano a tavola, specialmente in alcune circostanze, non erano seduti come noi, ma erano sdraiati. Quindi tutte le raffigurazioni dell'ultima cena, compresa quella famosissima di Leonardo, in un qualche modo ci danno una rappresentazione sbagliata, per certi aspetti falsa, del modo in cui Gesù e gli apostoli hanno celebrato l'ultima cena. Erano sraiati, perché questo era l'atteggiamento degli uomini liberi, degli uomini che avevano conquistato la loro libertà e non dovevano temere nulla, per cui si potevano rilassare, si potevano adagiare, potevano far durare quel pranzo tutto il tempo che avessero voluto. Gesù si alza e si toglie le vesti. Per stare a tavola avevano già deposto il mantello, adesso si toglie le vesti e questo gesto di servizio Gesù lo fa con la divisa di coloro che servono. La divisa degli schiavi rimane semplicemente in perizoma. Anche questo nelle nostre raffigurazioni spesso viene dimenticato. Abbiamo sempre Gesù che si inginocchia con tutti i vestiti addosso. Gesù si era liberato, era rimasto praticamente nudo, così come poi sarà sulla croce il giorno successivo. E su questa nudità Gesù mette l'unico abito liturgico che il Vangelo ci presenta, il grembiule con il quale poter asciugare i piedi che aveva lavato. Il grembiule, segno del servizio, che Gesù poi non toglierà una volta che riprende le sue vesti, quasi a indicarci che il servizio deve essere permanente. Il silenzio cala sulla riunione degli apostoli e di Gesù. Prima c'era il vociare allegro, gioioso della celebrazione della Pasqua. Ora c'è solo il silenzio perché i discepoli non capiscono. E questo silenzio è rotto da Pietro, il quale dice Signore tu vuoi lavare i piedi a me. Non sia mai. Pietro intuisce che in quel gesto di Gesù c'è la rivoluzione copernicana della religione. Non più un Dio da servire ma un Dio che si fa servo. Non più un Dio da adulare, da adorare con delle preghiere, con dei gesti, con dei sacrifici, ma un Dio dal quale accogliere il dono del figlio per la nostra salvezza. Un dono d'amore. E questo dono d'amore non fa differenze. Gesù lava i piedi di tutti gli apostoli, da quelli di Pietro a quelli di Giuda, compresi quelli di Giuda che, come abbiamo ascoltato, aveva già deciso di tradirlo. E in questo modo Giuda diventa per Gesù il diavolo. Il diavolo era colui che si metteva di traverso, colui che voleva impedire la realizzazione del progetto d'amore di Dio, l'alleanza d'amore che Dio stava realizzando in Gesù. In un certo qual modo lo stesso Pietro era un diavolo. Si era messo anche lui di traverso, ma poi tutti accettano il gesto di Gesù. Tutti si lasciano lavare i piedi. Tutti cominciano a intuire dove Gesù li voleva portare. E poi Gesù, compiuto il gesto della lavanda, dice poche ma significative parole, prima di iniziare poi il lungo discorso da Dio. Avete capito quello che vi ho fatto? Lo so che non lo avete capito. Adesso non lo avete compreso, lo capirete man mano, lo capirete nel tempo, lo capirete dopo che avrete visto il dono di me a voi morto sulla croce, dopo che avrete visto la risurrezione, dopo che avrete visto la discesa dello Spirito Santo. Allora capirete questa novità che io vi sto rivelando. Allora capirete il senso del mondo nuovo. Allora capirete cosa significa essere uomini nuovi. Mi chiamate maestro, mi chiamate signore e fate bene perché lo sono. Ma io che sono maestro e signore vi ho amato fino alla fine e mi sono messo a vostro servizio. Voi che siete i miei discepoli, se volete essere gli uomini nuovi, del regno nuovo, del mondo nuovo che io sono venuto a rivelarvi e a realizzare, dovete fare lo stesso. Lavatevi i piedi gli uni gli altri. Allora acquisirà di significato anche la nostra Eucarestia, anche la nostra comunione. Stare uniti a Gesù significa stare uniti ai fratelli. Adorare Gesù nell'Eucarestia significa anche servirlo nei fratelli e nelle sorelle con cui siamo chiamati a condividere la vita. Buon Giovedì Santo, buona celebrazione della cena del Signore.